Un drapò, simbolo dell'identità culturale e istituzionale del Piemonte, sarà consegnato ai 1181 comuni che compongono la regione nel corso di otto incontri sul territorio. È una delle iniziative del Consiglio regionale del Piemonte per celebrare i 50 anni dell'istituzione, zittata al 2021 a causa della pandemia. Il Consiglio regionale ha voluto includere all'interno della propria bandiera i 1181 comuni con un unico gesto e un'unica attenzione. L'attenzione massima delle parti di istituzione del Consiglio regionale è dovuta al fatto non solo nella donazione della bandiera del nostro drapò, ma anche l'instaurazione di un rapporto solidale che dura da 51 anni ma che ci deve essere un buon auspicio verso il futuro. A ogni tappa, una per provincia, l'immagine del drapò illuminerà per una sera la facciata del monumento più rappresentativo del territorio, come già avvenne l'anno scorso con la Sacra di San Michele. In parallelo, le vetrine dell'URP di via Arsenale 14G a Torino ospiteranno fino al 31 agosto la mostra fotografica Piemonte 50 anni, curata dall'ANSA e realizzata con il sostegno della Fondazione CRT. Un racconto per immagini dei fatti più importanti accaduti in mezzo secolo di storia del Piemonte. La mostra, che sarà proiettata via attualmente durante le cerimonie di consegna del drapò, sarà accompagnata dal catalogo che verrà consegnato a tutti i sindaci. Le fondazioni di origine poncarie, tra queste sicuramente Fondazione CRT, hanno il compito oggi di coprogrammare, coprogettare assieme alle istituzioni, le linee di sviluppo delle rispettive comunità e dei territori in cui sono chiamati ad intervenire. Ecco perché la Fondazione CRT è al fianco del Consiglio regionale del Piemonte per questo momento di festa e di ricordo di 50 anni di storia. La consegna del drapò partirà da Venaria Reale lunedì 19 luglio e si concluderà a Cuneo venerdì 30 luglio.